Due sere fa, i gnoti hanno dato fuoco alla porta dell'appartamento al civico 20 di discesa sanità di proprietà dell'architetto napoletano Diego Nuzzo, noto in città per aver organizzato nella sua casa museo diverse iniziative a sfondo culturale. Dopo l'episodio criminale, con uno sfogo affidato al proprio profilo social sul web, ha annunciato che avrebbe lasciato il quartiere. A lui questa mattina hanno portato la solidarietà i rappresentanti istituzionali del partito dei Verdi ambientalisti nella speranza di riuscire a fargli cambiare idea e rimanere come presidio culturale nel rione, sempre più al centro delle cronache locali per colpa dell'arroganza della criminalità. Tra i rappresentanti dei Verdi il consigliere regionale della Campania Francesco Borrelli. Il nostro è una solidarietà sostanziale e simbolica. È chiaro che Nuzzo pone un problema molto più ampio, che noi capiamo perfettamente. È difficile trovare un napoletano che ha avuto, tra virgolette, tutto facile nella vita e che vive o ha vissuto senza aver incontrato la piccola o grande camorra o le piccole e grandi ingiustizie. Il tema, e la nostra presenza qua, è di fare massa con le persone come lui e come noi che invece resistono. Diego Nuzzo però resta dell'idea di lasciare dopo 16 anni la propria abitazione. Per quanto riguarda me, dopo un evento di questo tipo che io trovo estremamente grave, credo che la decisione di andarsene sia ormai irrinunciabile. Ma non è importante che io personalmente vada via. La cosa importante è che andranno via tutta una serie di persone e si lascerà il quartiere in mano a chi mette la benzina sotto le porte. Il problema è che ci sono dei quartieri dove questo problema è ancora più grave. Certo, dicono spessissimo che anche nei quartieri della Napoli, bene, anche a Chiaia, anche al Vomero, ci sono problemi di criminalità. Il problema è che qua la criminalità, quello è l'evento che avviene una volta ogni tanto negli altri quartieri. Qui l'evento è quando non succede niente.